Ok, altra sfida per prendere finalmente Deadpool quest'oggi, andiamo subito a vederla. Nel computer, scendiamo, entra in una cabina del telefono o in un bagno chimico per diventare l'eroe più supereroe del pianeta. Bene, noi andremo sicuramente a cambiarci nella cabina del telefono in fondo allo yacht. Ci rivediamo in volo ragazzi, un minuto. Sullo yacht, che come sicuramente saprete già è a tema Deadpool quest'oggi, diciamo che l'ha rubato. E adesso andiamo sul fondo della nave per entrare in cabina. Intanto vi chiedo un mi piace a questo video e se vi fa piacere l'iscrizione al canale. Andiamo in fondo, qui dove ci sono gli ombrelloni e poi dovremo già vedere la cabina. Ed eccola. Occhio alle guardie. Ne facciamo che entrare subito. E missione fatta, siamo diventati dei. Bene, alla prossima. Ciao ragazzi. Anche voi. Questo è il metodo più veloce, chiaramente. Alla prossima, ciao. Ciao.